Che cosa stiamo aspettando? Non lo so. Forse... forse è stato un errore fidarsi dei tedeschi. Eh? Che hai detto? Ho detto che... forse è stato un errore fidarsi dei tedeschi. No. Hitler ha dato l'ordine di difendermi e naturalmente... tu sei sotto la mia protezione. Ben, senti. Qualunque cosa accada, non pensare a me. Pensa a te stesso. Non ti preoccupare di me. Tu ti devi salvare. Solo questo voglio. Ti ho promesso a Milano di portarti in salvo insieme a me. È una promessa categorica. Alla ore... Passare a te stesso. Alla parte... Il Weg zur Grenze è libero, ma abbiamo bisogno di Faschisti in nostra Colonna. Non possono fare. Non è vero. Non è vero. È un verrat. Io credo solo a la sicurezza delle persone. Entendete? Possiamo di loro veramente vertraggli? Alle americani qui, che si ergi ergi, durften bis ad la Grenza. Un è stato detto, a Meran per andare. Io ho servito per la mia compagno. Il mio consiglio è del Führer. Se il mio consiglio per il duccio, restate e vanno. Io mi ricordo per la sicurezza delle persone. Il tutto il territorio, che abbiamo fatto, è completamente partisan. Tutte le brucche sono completamente minuto. Io sono responsabile per le persone. Schnell! Avvah! E whisky. Quello fa sempre bene. Dove stai andando con questa baracca? Ma io allora... Tu dove vai? Alla miniera d'argento. A Luca e Nena, eh? La conosco bene. E conosco pure il padrone. Accidenti a lui quella faccia di lardo affumicato, figlio di puttana, non te ne sconto e grazzo di acce. Quello che spolpa la gente. Sfrutta tutti, perfino la serva. Perché c'avevo una serva con due chiappe che sembravano un tamburo, tanto erano sore. Pensa che quando la ingravidai, l'ha pure licenziata. Porcaccia miseria! Chiudi quella fogna di bocca e va a riparare la mia motocicletta. Ok. Ok. Come ti pare a te? Acqua santa. Ok. Ok. Grazie per la visione! Grazie per la visione!